La Fenailp ha partecipato ieri al tavolo virtuale di consultazione organizzato dall'assessore al commercio della regione Campania, Antonio Marchiello, per la determinazione della data dei saldi. Le date possibili potrebbero essere quelle dell'11 o il 12 gennaio. Il direttore Mario Arciuolo, nel suo intervento, ha evidenziato che per la volontà espressa dagli associati alla Fenailp del settore moda, i saldi dovrebbero avere inizio il primo possibile, alla prima data utile dopo che la task force regionale comunichi i dati relativi all'andamento dell'epidemia nella regione Campania. In un mercato ormai disorientato non avrebbe senso ritardare l'inizio dei saldi, anche in considerazione che ormai molti dettaglianti hanno già adottato le vendite promozionali, mentre i colossi dell'e-commerce non hanno mai smesso di concludere il loro business scavalcando qualunque regolamento e tutti i decreti. Nelle prossime ore la regione Campania varerà il decreto che stabilirà la data di inizio saldi, sempre però subordinata sia alla determinazione del colore che il governo deciderà per la Campania, sia ai dati che la task force regionale comunicherà a breve all'assessore Marchiello.